La data del mio matrimonio è il primo ottobre del 1977, 1, 10, 77. Io so che giorno è della settimana. Doveva essere un sabato? Non ci siamo messi d'accordo, eh? Anzi, io speravo tantissimo che sbagliassi. Mia figlia Valentina è nata il 29 gennaio del 1984. 29, 1, 84. Che giorno era? 1984. Domenica? Io sono nato il 23 maggio del 1955. 23, 5, 55. Doveva essere un lunedì? Giusto che è? Abbiamo appurato che era vero anche il venerdì per la data che aveva dato. Abbiamo appurato che era vero il venerdì, perfetto, grandioso. Sì, però scusa, adesso come diavolo fai? Per le date? Scusa, stiamo parlando di date astruse qualunque, buttate lì. Può essere qualsiasi tipo di data. È vero che i giorni alla settimana sono sette, ma non potrai avere così fortuna, stavo per dire un'altra parola, per indovinarle una delle sette così al volo. Sicuramente c'è una parte matematica, c'è una certa ciclicità nei calendari, ma per diventare così bravi e rapidi, c'è una tecnica che ha inventato niente po' di meno che Lewis Carroll, ovvero il papà di le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, che ha inventato una vera e propria tecnica che chiamò l'almanacco fotografico, inventata il 31 marzo del 1887, che era Enrico? Un giovedì? Ha inventato questa tecnica per poter riuscire a visualizzare e focalizzare con delle immagini il calendario e da lì riuscire a rievocare il giorno della settimana. Sembra assurdo, ma è così. Grazie a tutti.